No alla militarizzazione del centro, sia alla possibilità di istituire il daspo urbano in determinate zone sensibili come Piazza Affari, la stazione, la zona della Meridiana. La decisione è stata presa al termine del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, convocato dal prefetto di Lecco all'indomani del grave episodio di Piazza Affari con l'aggressione di quattro giovani da parte di una baby gang. Sì, in effetti gli ultimi episodi ci preoccupano. Cosa abbiamo deciso in sintesi? Innanzitutto un rafforzamento del presidio di controllo e vigilanza nelle aree maggiormente a rischio, da cui appunto Piazza Affari. Quindi ci sarà un dispositivo potenziato, il questore D'Agostino oggi o domani convocherà un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati per scendere più nei dettagli. Ma attueremo dei presidi diciamo con stosse più corpose in queste aree per cercare di fare da deterrenze. E poi la possibilità anche di stabilire nel regolamento di polizia urbana delle aree a rischio, delle aree che si vogliono salvaguardare. E dopodiché se viene beccato qualcuno che delinque, da fastidio, commette atti vandalici, risse, dopo che questi episodi si ripetano, il questore ha la facoltà, la possibilità di adottare il DASP urbano. Una misura analoga a quella che avviene nei nostri stati di calcio. L'ECO ha un problema di ordine pubblico come denunciato dalle minoranze in Consiglio Comunale, un problema di baby gang. Guardi, i dati che noi abbiamo non ci segnalano dei fenomeni di bande criminali dediti a commettere risse, a dare fastidio. 14 risse in provincia di Lecco dal 2018 ad oggi, 9 gli episodi in città, 2 a Carlozzo Corte, 1 a Cremeno, malgrate ballabio e brevio, numeri contenuti che comunque non consentono di abbassare la guardia. Dobbiamo stare attenti a quello che è il sentimento, il sentire dei cittadini. Quindi, ancorché le cifre ci confortano, che non c'è un fenomeno allarmante di bande criminali, per cui non dobbiamo noi militarizzare la città. L'ECO è una città tranquilla, non siamo al Far West o al Bronx qui, però dobbiamo stare attenti. Quindi il massimo è l'attenzione delle forze dell'ordine e quindi lo faremo nei prossimi giorni con dei presidi rafforzati. Chi ha sbagliato, lo assicuro, pagherà.